Salve a tutti, qui Divos che vi parla e vi da il benvenuto a una nuova recensione di The Tower Destin Italia. Quest'oggi vi parleremo del torace esotico per cacciatore Tarantola ATS-8. Questo pezzo esotico è stato introdotto con la prima corposa patch dopo il Re dei Corrotti ed è piuttosto utile abbinato ovviamente con la classe Lama Danzante, perché è studiato appositamente per tale sottoclasse. Infatti la sua perk nominale dice che riduce i danni d'arco subiti dai mostri dell'oscurità, le granate d'arco e la Lama d'arco si ricaricano più in fretta. Quindi insomma qua significa che le abilità, la super e appunto le granate si ricaricano visibilmente più in fretta. Quindi molto utile soprattutto nel comparto PvP, dopo ne parleremo nello specifico. Risulta al momento il miglior pezzo esotico per la Lama Danzante in quanto la maschera del terzo uomo che ne prolunga semplicemente la durata ha perso un po' della sua utilità. Dove si può ottenere? Lo si può ottenere dagli engrammi esotici, lo si può ottenere da Xur, insomma qualsiasi tipo di drop esotico per torace. Dove usarlo? In PvE attualmente il Tarantola e in generale la classe Lama Danzante risultano piuttosto inutili in quanto per la Torre della Notte può comunque contare sull'invisibilità, magari abbinata al doppio fumogeno delle pugnature sigillate degli Amkar. Può fare molte più sfere, quindi in definitiva la Lama Danzante ormai in PvE ha perso gran parte della sua utilità. Quindi insomma il Tarantola, se volete divertirvi a spammare qualche super extra negli assalti o qualche attività rilassante il Tarantola può essere divertente, però per il ride, cala la notte, insomma attività che possono richiedere un equipaggiamento un po' più pensato il Tarantola e l'abbinata con la Lama Danzante è abbastanza inutile. Quindi il Tarantola diciamo che è il meglio di sé nel comparto PvP. Dove usarlo in PvP? Diciamo un po' dappertutto, ovviamente Lama Danzante in PvP ha il grande vantaggio di avere il Blink, avere il teletrasporto, il che lo rende diciamo in qualche modo differente dalle altre classi del cacciatore. È una super sempre rischiosa, perché ovviamente è abbastanza facile da abbattere, visto che devi sostanzialmente correre incontro ai nemici, però diciamo più per il lato super io mi sono stato particolarmente bene con il Tarantola in PvP per le granate, nel senso avere le granate spesso cariche può salvare molte situazioni. Ad esempio uso la granata saldante, quella che si appiccica, quella che può essere stickata sui nemici e personalmente averla carica un po' più spesso del solito è stato davvero molto molto utile. Per la super ovviamente in certe modalità avere spesso la super è davvero utile. Pensiamo ad esempio alle modalità 6 contro 6 in cui si può davvero fare un buon numero di kill e tirare su tante super. Nelle modalità invece 3 contro 3, in particolare il provvedio di Osiride, sì l'alanzante è abbastanza utile, dunque semina sempre il panico e poi farci delle belle kill, ma la super viene usata di solito in maniera un po' più conservativa, difficilmente insomma si parta a testa bassa con la super contro un gruppo di nemici. Però è capitato a me in certe partite di riuscire anche a fare 3 l'alanzanti in Osiride, in partita abbastanza lunga in cui riuscivo a fare un buon kill, mentre senza il Tarantola ne riuscivo a caricare semplicemente 2. Quindi, valutazioni in PvE direi 6, 6 e mezzo, non di più, perché appunto in PvE è un pezzo che non ha senso utilizzare insieme alla sottoclasse, insomma, sarete utilizzare l'alanzante in PvE, piuttosto mettere la maschera del suo uomo, il cimior del lupo alfa per fare qualche spara in più. Con parto PvP invece la mia valutazione è un bel 8 e mezzo, perché può essere davvero veramente utile per, come dicevo prima, le granate e in seconda misura, ma insomma dipende dal contesto, anche per la ricarica accelerata della super. Come consiglio extra, vi suggeriamo di riforgiarlo in maniera congeniale con l'utilizzo che volete farne, quindi spendere gli agni litro per metterci più intelletto, per metterci più disciplina. Io consiglio appunto la disciplina, perché tante discipline più l'effetto del Tarantola danno davvero granate a gogò. E' stato probabilmente uno dei pezzi più interessanti, introdotti dopo la prima pace del Re dei Corrotti, insieme al Bastione del Crepuscolo, andando un po' nuova gloria alla Lama Danzante, che stava un po' soffrendo contro le altre super più offensive, come l'Evoca Tempeste, il Martello, sempre il Pogno dell'istruzione, Bombanova. Insomma, vi consiglio di provarlo, vi suggerisco di usarlo, anche appunto in Osiride, quindi in modalità più competitiva. Ci vediamo a una prossima recensione, sempre qui sul canale di C7K Group. Un saluto a tutti!